Buongiorno a tutti, grazie. Personalmente penso di non aver fatto male, ma soprattutto sono contento perché tutta la squadra ha fatto bene e perché abbiamo ottenuto un bel traguardo oggi. Senti, tu ripetiscono grandi emozioni, immagino, però insomma l'hai vissuto bene, l'hai vissuto con la giusta carica, quindi abbiamo visto sicurissimo i miei progetti, non è avuto tantissimo quello che dobbiamo fare per la conferenza. Sì, perché credo molto nel lavoro, credo molto nella professionalità e quando ti alleni bene poi i risultati si vedono. Ma ripeto, non sono io, siamo tutti perché tutti ci alleniamo sempre bene, ci alleniamo sempre forte, siamo tutti professionali e quindi oggi si è visto. Ti rimane il ramarico forse di aver aiutato dopo poco quest'anno? Come ho detto l'altra volta no, perché Nordi è Nordi, lo conosciamo tutti e quindi non mi rimane il ramarico. Sono felice di avermi fatto trovare pronto quando è stato necessario. Lo dedico alla mia ragazza che sicuramente mi sta sempre dietro, mi dà sempre anche una gran carica e quindi a lei e a un mio caro amico che oggi era in tribuna di nome Luigi. Non voglio dire il cognome perché a lui piace rimanere un po' così nell'anonimato e quindi a loro. Grazie.